ottime notizie per i pazienti affetti da anemia derivante da malattia renale cronica è stata infatti approvata la rimborsabilità di roxadustat il primo inibitore della prolin idrosilasi del fattore inducibile dell'ipossia assumibile per via orale si tratta di un farmaco messo a punto da stellas che è stato definito rivoluzionario in quanto la formulazione orale consente una maggiore tollerabilità una migliore compliance terapeutica e anche una minore necessità di supplementare il ferro dato che consente di assorbire e sfruttare meglio quello biologicamente presente nell'organismo professor de nicola possiamo descrivere che cos'è l'anemia da malattia renale cronica e fare una panoramica sul trattamento si l'anemia da malattia renale cronica la riduzione della produzione di globuli rossi secondaria alla insufficienza renale oggi si parla di da malattia renale cronica però diciamo un'insufficienza renale quello che succede quando si ha un equa di redi funziona al 50% e questo comporta una riduzione della produzione di un importante ormone che è quello che stimola la produzione di globuli rossi si chiama eritropoietina e le cellule che producono questo ormone guarda a caso sono proprio nel rene è una complicanza estremamente frequente che è presente del circa il 50% facendo una media ma parliamo del 10% dei pazienti con insufficienza renale lieve fino ad arrivare al 90% dei pazienti con in dialisi è molto presente ed è purtroppo poco trattata abbiamo ancora il 50% dei pazienti in fase conservativa non è trattata e quelli trattati solo il 50% raggiungono il target questo perché la malattia renale cronica è sottovalutata è poco conosciuta perché è una malattia asintomatica l'anemia ovviamente non è un infatto è una complicanza che dà grossi problemi che però sono scabbiati per altri motivi tipo la sedia la stanchezza la faticabilità e quindi è poco conosciuta e poi le terapie tradizionali sono terapie parenterali quindi per iniezioni diversi pazienti rifiutano di fare iniezioni il medico a un certo punto scoraggiato dice vabbè non vuoi fare iniezioni arriverci grazie e quindi questo è il motivo per cui viene a essere poco trattata poi abbiamo il problema della resistenza alla terapia tradizionale resistenza alla terapia tradizionale che legata a due fattori la carenza marziale perché la nitropoietina ha necessità di ferro e la seconda è che c'è uno stato infiammatorio che accompagna il paziente dall'inizio fino alla fine aumenta di intensità l'infiammazione man mano che la malattia progredisce l'infiammazione blocca l'eritropoiesi questo nuovo farmaco è un farmaco che agisce in maniera multifattoriale aumenta l'eritropoietina riduce l'infiammazione e aumenta la disponibilità di ferro ecco perché noi nefrologi non possiamo che venirci soddisfatti e entusiasti di questo cambiamento di paradigma terapeutico. Professor Di Nicola mi descrivi la qualità di vita dei pazienti affetti dall'anemia da malattia renale cronica? La qualità di vita media di questi pazienti che sono pazienti politrattati che prendono già una marea di farmaci bene però grazie a questi farmaci noi stiamo rallentando la progressione guardando l'evoluzione degli studi dei trial noi sono molto interessato quando nei trial si vanno a vedere il braccio controllo e si vede che quelli trattati con la terapia standard hanno nel corso degli ultimi 30 anni migliorato moltissimo e quindi hanno rallentato moltissimo la progressione grazie alla politerapia quindi è vero sono farmaci aggiungiamo un altro farmaco ma vive a dio perché è importantissimo. D'altra parte un paziente con anemia è un paziente che non non riesce a vivere non ha una vita sociale non ha una vita sessuale non ha una vita lavorativa perché si sente stanco a 6 una mattina si alza e ti sente stanco quindi l'impatto sulla qualità di vita è un impatto fondamentale io non potrò scordarmi un un giornalista scientifico diversi anni fa che pubblicò una lettra su un giornale americano perché a quei tempi è riuscito un trial che diceva ma non è necessario arrivare a 13 a normalizzare l'emoglobina il giornalista scientifico dice ma io veramente giro gli Stati Uniti per lavoro io sinceramente penso che avere un'emoglobina più alta per me sia salvifico sia il mio obiettivo poiché ci sia un piccolo aumento di rischio cardiovascolare non mi interessa io preferisco vivere una vita piena quindi vedete come la qualità di vita sia fondamentale in questi casi professore di nicola i problemi renali sono spesso sotto diagnosticati perché non si eseguono esami specifici di screening cosa si dovrebbe fare per evitare le complicazioni tra cui l'anemia questa è la domanda più difficile e che purtroppo è una risposta banalissima noi dobbiamo lavorare anche come società italiane di nefrologia come io penso anche abbiamo necessità di coinvolgimento di politici di commissioni di sanità a livello nazionale a livello locale per implementare una scheda nefrologica che faccia riconoscere al medico di medicina generale la presidenza di un'insufficienza renale perché come ho detto prima l'insufficienza renale è asintomatico e perché è paradossalmente banale la diagnosi perché fondamentalmente si basa su due esami a basso costo ed estremamente semplice uno è il dosaggio della creatinina nel sangue e l'altro è un esame dell'urina in totale 2,50 euro dovrebbero essere fatti inseriti nello screening oggi noi parliamo di screening tumorali di tutto di più continuo a dire perché l'ho detto prima in conferenza a Santa che se c'è un'insufficienza renale che va avanti che tu hai fatto lo screening per il tumore al seno poi non puoi essere trattata perché sono molti farmaci oncologici che non possono essere dati al paziente se tu fai lo screening per il BPCO per broncoponeopatia cronica e devi essere trattato io sono farmaci antipicologici che non puoi fare se hai una polmonite quindi c'è tutto una marea di conseguenze dell'insufficienza renale cronica che dovrebbero immediatamente far inserire da chi di dovere quindi dall'autorità sanitaria da chi ci governa una scheda nefrologica nella medicina generale perché la medicina generale è il nostro riferimento perché sono quelli che vedono tutti i pazienti finché ci sarà il sistema sanitario nazionale grazie a tutti grazie a tutti